Alessandro Di Battista, oggi Luigi Di Maio è andato al Quirinale per annunciare l'intenzione di presentare la prossima settimana la squadra di governo. Perché lo ha fatto? Beh Lili, la situazione è molto delicata nel nostro paese, in quanto la legge elettorale che hanno fatto tutti i partiti, io mi sono opposto, il Movimento 5 Stelle si è opposto a questa legge elettorale, oscena è stata creata per creare ingovernabilità, perché nelle ingovernabilità gli esperti di pesca nelle acque torbide si trovano bene e poi questa legge elettorale di fatto è stata fatta per non far vincere nessuno, quindi per far vincere tutti tranne il Movimento 5 Stelle. Luigi secondo me in maniera molto responsabile ha deciso di andare al Quirinale per anche gesto istituzionale pieno di riguardo, appunto per far capire che noi non vogliamo lasciare questo paese nel caos, anche se questa legge elettorale è stata creata appunto per farlo, e appunto per ribadire al Presidente della Repubblica, comunque al Quirinale, la nostra idea di presentare la squadra di ministri prima delle elezioni. L'unica forza politica che farà questo. Ecco, l'unica forza politica che farà questo, ma c'è un perché caro figlio, perché appunto è piuttosto irrituale, ce l'ha spiegato adesso Di Battista, il perché anche Di Maio in una nota, che ovviamente prima di dire i nomi della futura squadra di governo pubblicamente informerà il Presidente della Repubblica, Mattarella. Ma perché? Guardi, io non ho l'abitudine di giudicare i comportamenti di alcuno, quindi non lo faccio neanche in questo caso. Registro un dato che è abbastanza difficile da contestare. La Costituzione dice una cosa diversa. La Costituzione dice che è il Presidente della Repubblica che individua i ministri e naturalmente la scelta dei ministri è l'esito di una procedura politica, laddove politica è una bella parola, che allude alla necessità dello scambio, del compromesso, dell'intesa, delle convergenze, in cui, ripeto, il ruolo del Presidente della Repubblica non può essere scavalcato attraverso una dichiarazione anticipata, che non solo non è prevista dalla legge costituzionale, c'è qualcosa del tutto contrario. Altro discorso è se uno vuole fare il Sindaco. Il Sindaco che viene eletto può dire prima, e fa bene secondo me, chi vuole mettere nella sua squadra di governo della città. per il governo dello Stato, del Paese, le regole sono diverse. Senta Di Battista, io sono sicura che molti apprezzeranno il vostro gesto di presentare prima la squadra di governo, il Presidente Mattarella ovviamente si terrà fuori da tutto questo, ovviamente, ma quali posti sono già stati decisi, visto che abbiamo letto molti nomi sui giornali? Sì, non bisogna dare troppo retta ai giornali, soprattutto in questa fase. Diciamo che la struttura è quasi finita, quasi terminata, però come ho sempre detto è responsabilità del nostro candidato Premier Luigi Di Maio farla prima delle elezioni, quindi lascio a lui chiaramente questo compito. E quindi non ci fa, non ci dà nessuna anticipazione di nessun tipo. Ci sono molti parlamentari dei 5 Stelle anche, però abbiamo letto che per alcuni posti anche importanti ci sono dei suoi colleghi della Camera, del Senato, o lei esclude che ci siano colleghi suoi? No, questo non lo escludo, però ribadisco appunto che è compito di Luigi, è questione di giorni. Va bene, poi siccome la prossima settimana avremo ospite di Maio, anche noi... Qualche informazione l'ha acquisita, c'è qualche parlamentare? Già un risultato è emerso da questo interrogatorio ben condotto. Sì, c'è qualche parlamentare. Senta Di Battista, leggiamo però anche che state incassando numerosi no, è un po' come se nel mondo della classe dirigente, dei professionisti, fosse ancora un po' diffidente nei vostri confronti. Onestamente io sto girando tutta l'Italia e tutta questa diffidenza nei confronti del Movimento 5 Stelle io non la sto registrando, anzi noto che c'è un consenso enorme e se evidentemente siamo cresciuti così tanto in questi anni, io lo dico sempre in maniera anche sincera, siamo senz'altro cresciuti per demeriti altrui, è vero, il 5 Stelle se i partiti politici si fossero comportati decorosamente probabilmente neppure sarebbe nato, però siamo cresciuti anche per meriti nostri, datecene anche atto, per cui io tutta questa diffidenza non la sto registrando. Onestamente anche i giornali che in questa fase scrivono no, no e rifiuti appunto di personalità rispetto al 5 Stelle sono piuttosto poco attendibili. È sempre colpa dei giornalisti alla fine, io devo spezzare una lancia a favore della mia categoria. Senta caro figlio, i 5 Stelle sono da considerarsi già il carro dei vincitori e lei ha capito se alla fine il Movimento sarà disposto ad allearsi dopo il voto? Intanto voglio fare una premessa, a me non mi ha chiesto nessuno di fare il Ministro, sono un po' offeso diciamo così per questo. Ma lei non è mica un fan dei 5 Stelle? Io non sono nulla, sono molto offeso per questo, volevo dichiararlo pubblicamente. Ci ho detto, diciamo per sdrammatizzare un pochettino, ma io non credo che loro siano il carro dei vincitori e credo che neanche vorrebbero essere considerati un carro dei vincitori. Io credo che i 5 Stelle, adesso dico una cosa seria, l'ho già detto un'altra volta a Di Battista in una conversazione televisiva, contengano una grande riserva di democrazia che finora purtroppo è andata in gran parte sfrecata e sulla quale dovrebbero interrogarsi. Una idea della politica meno incline alle definizioni semplificate, meno incline a distinguere il mondo in buoni e cattivi, più incline a cogliere la necessità etica del compromesso. Il fatto cioè che la buona politica sia la convergenza di punti di vista diversi, sia la capacità di vedere le cose dal punto di vista dell'altro, sia la capacità di vedere quello che di buono c'è nella prospettiva altrui. Ecco, una politica di questo tipo, se fosse in qualche modo introitata, diciamo in una fase matura dei 5 Stelle, potrebbe essere un segnale positivo per la democrazia italiana. Ci ho detto, io non so se loro siano pronti ad allearsi, non so cosa succederà. Non l'ha capito neanche lei? Perché da noi ieri sera Marco Travaglio invece... Marco Travaglio è molto più intelligente di me quindi. E comunque si è fatto un'idea piuttosto chiara, guardate. Il MoVimento 5 Stelle, vediamo se dovesse arrivare il primo partito in questo Paese, ma il problema è che con questo sistema elettorale, dicendo loro che non si alleano, probabilmente non ci sarebbe una maggioranza, non potrebbero avere una maggioranza di governo. Cosa si deve fare allora? Eh no, è cambiata la situazione. Adesso hanno detto che si alleano, hanno detto che presenteranno un programma per punti da sottoporre a tutti i partiti. Poi farà ai partiti decidere se quel programma gli piace o non gli piace, ma non è come l'altra volta che erano chiusi nella loro Torre d'Avorio. È così, Di Battista, non siete chiusi nella vostra Torre d'Avorio e siete disposti ad allearvi dopo il voto? Mi dispiace contraddire Travaglio, nel senso neanche la scorsa volta stavamo in una Torre d'Avorio, semplicemente siamo entrati come opposizione, avevamo bisogno anche di tempo per farci le ossa, per costruire anche un'esperienza che evidentemente ci voleva e l'abbiamo costruita. Oggi quel che ci interessa è risolvere determinati problemi dei cittadini. Prima, caro figlio, parlava di compromessi. A parte bisogna sempre capire il livello di compromessi. Io con chi mi dovrei compromettere? Con chi ha pagato Cosa Nostra? Con chi ha portato avanti leggi che hanno distrutto lo Stato sociale? Perché lo Stato sociale in questo Paese è in estrema difficoltà? No! Quindi quello che a noi ci interessa è risolvere alcuni problemi. Per cui ribadisco, qualora dovessimo ricevere l'incarico di governo al Presidente della Repubblica, e come diceva giustamente caro figlio, questo è semplicemente responsabilità del Presidente della Repubblica, noi ci presenteremo alle Camere, alla nozione intera, dicendo che qui c'è bisogno di una banca pubblica di investimento sul modello tedesco a sostegno delle imprese, di una vera legge anticorruzione. Io qui lì sono nella zona dei De Luca, comunque anche del sistema dei rifiuti in Campania, e dico che occorre introdurre la gente provocatore nel sistema, perché la corruzione non soltanto ci costa denari, la storia che un chilometro di autostrada costa qui rispetto al triplo rispetto alla Francia, ma provoca morte, perché ci sono politici corrotti che hanno permesso a camorristi e comunque a delinquenti di sotterrare i fiuti tossici sotto le nostre case, per cui va affrontato in questo modo. Poi vogliamo risolvere questo benedetto conflitto di interessi, che io pensavo riguardassi soltanto Berlusconi quando ero ingenuo, poi in Parlamento ho capito che riguarda i partiti con le concessioni al gioco d'azzardo, con le lobby del petrolio, con il sistema bancario, figuriamoci. Vogliamo fare una serie di cose, anche riformare la legge Fornero? Vedremo chi ci starà, però io in Parlamento, insieme al Partito Democratico, quindi quando sono arrivate delle leggi per noi, utili per risolvere un problema e per la collettività, le abbiamo votate? Certo non abbiamo votato le riforme costituzionali, grazie a Dio anche il popolo italiano, o leggi elettorali poi giudicate incostituzionali tipo l'Italicum, o la buona scuola che sta massacrando la scuola pubblica, o lo sblocca Italia che sta aprendo a trivellazioni, alla distruzione del nostro ambiente. Su questo mi inorgoglisce il fatto appunto dei nostri no. Allora, due questioni, caro figlio, ha aperto Di Battista. Uno, la domanda, con chi dovrebbero allearsi? Ha usato un'espressione diversa però, se mi permette di precisare, perché questo ci dice, nelle pieghe, come posso dire, di una sfumatura linguistica, della difficoltà di entrare nell'ordine di idee di cui dicevo, Di Battista ha detto, con chi dovrei compromettermi? Ecco, la questione non è con chi ci si deve compromettere, compromettersi significa una cosa, fare i compromessi significa un'altra. E spia l'uso di questa espressione, che non c'entra nulla con quello che stavo dicendo io, di un disagio rispetto a un concetto che è chiave della politica di qualità, e cioè la capacità di non distinguere il mondo in buoni, nel caso di specie, loro, e i cattivi, tutti gli altri, perché il concetto è che tutti gli altri sono quelli che fanno gli accordi con la mafia, fanno le leggi in conflitto di interesse e tutto il resto. Allora io non voto 5 Stelle, non appartengo a loro, non mi considero neanche però uno di quelli che fanno tutte queste cose qua. Allora forse è necessario chiarirsi un pochettino le idee sul fatto che il mondo è più complicato di questa distinzione, lo dico con simpatia, un po' infantile, fra buoni e cattivi del mondo. Di Battista, siete un po' infantili in questo... Vorrei riplicare in maniera molto... Prego. Caro figlio, onestamente, per essere chiari, io non credo minimamente che gli esponenti del 5 Stelle siano ontologicamente migliori degli altri, io sono italiano come tutti gli altri, e ho trovato onesti, persone politiche onesti, in tutti i partiti politici, in PD, in Forza Italia, nella Lega, a Sinistra, li ho trovati. Quello che noi contrastiamo è il sistema in sé, per esempio, dei finanziatori delle campagne elettorali. Io non penso che noi siamo buoni e gli altri sono i cattivi. Vorrei soltanto ragionare su proposte, idee e soluzioni. Credo, e lo rivendico questo, che delle regole interne del Movimento 5 Stelle, estremamente intransigenti, riducano la possibilità di contaminazione. Non la eliminino, ma la riducano. E in questo senso io porto avanti delle regole molto intransigenti e ferre all'interno. Questo non significa che io sono il buono e gli altri sono i cattivi. Non l'ho mai pensato, e ancora di meno lo penso oggi dopo 5 anni in Parlamento. Però reputo che il dramma di questo Paese, oltre all'illegalità e la disonestà anche degli uomini politici, siano alcuni politici, magari onesti, brave persone, che però, pur di stare dentro quel palazzo per 50 anni, pur di avere quelle poltrone, non parlo solo di stipendi, ma anche di potere che sgranocchiano nelle loro fauci, sono disposti magari a sedersi di fianco a un criminale, a un delinquente, a un condannato, o a uno che ha finanziato Cosa Nostra. A me questo non mi sta bene. Spero di essere stato chiaro. Chiaro? Sì, sì, ripeto, rimane in una maniera un po' più sfumata, e colgo l'aspetto positivo di alcune concessioni, quel concetto, e cioè che ci sono molte più sfumature nel mondo reale. Prenderne atto consentirebbe, ripeto, di valorizzare quel serbatoio democratico che questa enorme massa di voti che andrà ai 5 Stelle costituisce e che rischia di rimanere lì in frigorifero, perché il rischio, per me è un rischio, io non sono di quelli che dicono fra Berlusconi e 5 Stelle scegliere i Berlusconi, voglio essere molto chiaro, pur avendo un atteggiamento estremamente critico nei loro confronti, proprio per questo, e anche nell'ambito di un dibattito così civile, e questo mi fa piacere, emerge questa inclinazione al massimalismo che è quello che rischia di mantenere in frigorifero paralizzati tutti quei voti e tutta quell'energia democratica. E anche perché queste vostre regole così severe poi non sempre funzionano. Adesso ci arriviamo subito anche perché l'attualità ci aiuta. Vorrei solo chiedere a lei in quanto ex magistrato, caro figlio, una cosa sulla gente provocatore che ha menzionato prima di battere. Mi invita a nozzi, io ci ho scritto su questo, sono completamente d'accordo, io ho scritto qualche anno fa un articolo per... Ma quando dovrebbe essere impiegato l'agente provocatore? Insomma, la questione è molto tecnica. Su richiesta della procura, degli organi inquirenti, Cerco di essere veramente molto sintetico, io sono completamente d'accordo su questo. Lo vogliamo spiegare allora di cosa stiamo parlando al pubblico? L'agente provocatore è un ufficiale di polizia giudiziaria che a certe condizioni previste dalla legge e sotto il rigoroso tassativo controllo dell'autorità giudiziaria va dal presunto corrotto. E quando dico presunto corrotto non intendo dire che lo sospettiamo, intendo dire che devono già esserci degli elementi investigativi rilevanti e lo provoca. Gli offre i soldi, sto semplificando e banalizzando, è una figura che esiste in tutti gli ordinamenti civili, ma vi dico di più una cosa che non so se loro dicano, ma io l'ho scritta all'epoca, c'è una direttiva internazionale che impone di istituire norme in materia di agente provocatore nella lotta alla corruzione. Ma anche i giornalisti possono... Ma certamente no, devono essere ufficiali di polizia giudiziaria, devono essere sottoposti a un controllo tassativo dell'autorità giudiziaria. Io aggiungerei anche una cosa. Non deve essergli consentito l'arresto in flagranza nei casi in cui stanno facendo l'agente provocatore. Si arresta solo dopo che l'autorità giudiziaria ha controllato quello che è stato fatto. Detto questo, voi sapete quanto costa un fascicolo, un'indagine in materia di corruzione che spesso, dopo tanti anni, finisce nel nulla, nonostante un enorme lavoro? Cifre spaventose di intercettazione. Ecco, Di Battista, su questo siamo d'accordo. è una di quelle cose su cui uno potrebbe sottoscrivere sin d'ora. Un documento è tanto per farvi capire che io non ho nessun atteggiamento difensivo rispetto agli errori gravi fatti dalle forze politiche in cui, in senso molto ampio e ormai temo, vago, mi riconosco, dico che le questioni sull'uso del contante sono state trattate in modo sbagliato e gravemente sbagliato in questa legislatura. Perché uno degli strumenti per contrastare con efficacia la corruzione, oltre all'introduzione dell'agente provocatore, è la progressiva eliminazione del contante. Ecco, voi, Di Battista, se andaste al governo, abbassereste la soglia di contante. A quanto? Beh, diciamo che il pacchetto anticorruzione che ha predisposto il Movimento 5 Stelle presuppone, oltre appunto l'introduzione dell'agente provocatore, io sono molto d'accordo con quel che ha detto appunto il dottor Carofiglio in precedenza, magari non sull'arresto, su quello saremmo addirittura più duri, ma in quanto, dottore, come lei sa perfettamente, la corruzione oggi è l'arma principale in mano alle cosche, ha mali estremi, estremi rimedi, dobbiamo essere estremamente duri. L'altra proposta che fa... Scusa, posso solo precisare una cosa? Sì, sì, però concludo un attimo. No, no, ma per dirle che veramente 30 secondi, io non dico che non vanno arrestati, dico che per tutelare il più possibile le garanzie non deve essere consentito l'arresto in flagranza, ma un vaglio dell'autorità giudiziaria e l'arresto subito dopo. Va bene, e mi dica... Certo, perché lei, Maggiro, si riferisca al diritto della difesa e anche a quello che ha detto la Corte Europea di Diritti dell'Uomo. Capisco perfettamente. Conosco bene anche la materia appunto la normativa in generale e le indicazioni che ci sono state date. Ciò nonostante reputiamo che appunto in questo momento occorra una forza ancora di più per contrastare la corruzione. L'altra cosa, Lilli, fondamentale... Mi dica il contante. ...so se sarà d'accordo il dottore. Sì, su questo diciamo che un'attenzione maggiore ci dovrebbe essere in un certo senso. Infatti noi votammo contro. Ciò nonostante reputiamo che un'altra cosa indispensabile sia la riforma della prescrizione. Oggi troppi processi finiscono a taralluccio e vino e noi abbiamo proposto di stoppare la prescrizione quando vi è rinvio a giudizio. Questo perché il delinquente che sa che contro di lui ci sono delle prove schiaccianti anziché dire all'Avvocato allunghiamo il brodo per arrivare a prescrizione gli direbbe vai, chiedi il rito abbreviato così otteniamo degli sconti di pena il processo durerebbe di meno e dice benissimo il dottore anche per quanto riguarda i costi appunto di determinate indagini e punca anche dei processi e ci sarebbe certezza della pena perché il delinquente chiederebbe appunto il rito abbreviato per ottenere magari qualche sconto di pena. Mi rendo conto che anche questa sia una proposta forte però è necessaria per contrastare questo cancro che ci sta uccidendo non soltanto in Campania ma in tutta Italia. È d'accordo anche su questo? Sì, sono d'accordo non è una proposta forte è una proposta che riprende quello che accade nei paesi nelle democrazie avanzate sono d'accordo anche su questo. Di Battista abbiamo trovato il vostro ministro della giustizia sta seduto qui di fronte a me siete d'accordo praticamente su tutto. Voglio solo che mi... No, 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 piano, piano. Quasi sulle questioni giustizia. Non ho capito se per voi il limite del contante dovrebbe scendere di nuovo a cosa? Mille euro? Cinquecento? Diciamo che quando si arrivò alla proposta noi se non erro appunto votiamo contro non ricordo esattamente il limite sono sincero perché se ne occupa la Commissione Finanze però in un certo senso farlo scendere un po' secondo noi potrebbe evitare appunto... Vabbè, un po' vuol dire duemilacinque, duemilotto o duecento? se non erro Lilli, se non erro perché poi si possono anche commettere degli errori di cifre se non erro era mille e cinquecento euro però probabilmente sarebbe molto più preoccupati di questa tematica se non erro è questo. Non c'è nessuna ragione economica o di funzionamento della società per cui si mantenga il contante al di sopra di cifre minime d'altro canto invece con l'eliminazione del contante si elimina quasi tutti i casi di corruzione tranne quelli con i pagamenti estero su estero o con i regali con la cacciotta o con il computer perché io non è che uno porta la cassetta di soldi oppure paga la corruzione con il bancomat quindi si tratta di fare come in Norvegia o come in Svezia dove stanno eliminando il contante non c'è una sola ragione non mi dite i vecchi perché ai vecchi gli si insegna a usare la carta di credito e si lascia la possibilità di spendere piccole somme di contante chiarissimo Alessandro Di Battista allora veniamo alle vostre difficoltà di scegliere i vostri candidati allora uno di questi scelti direttamente da Di Maio è il presidente del Potenza Calcio che si chiama Salvatore Cagliata e è venuto fuori che è indagato per riciclaggio lui si è autosospeso Di Maio invece lo ha espulso dal movimento perché soprattutto in questo caso dove sono stati scelti direttamente e vagliati direttamente da Di Maio non funzionano le vostre diciamo misure così severe spesso perché adesso saranno almeno 10 12 14 secondo le Iene innanzitutto diamo una cifra se non erro abbiamo candidato in totale tra collegio plurinominale perché poi ci sono anche spesso le stesse persone in un collegio plurinominale 630 candidati su 630 candidati appunto ci sono sono uscite fuori una decina di casi che per noi sono incompatibili con il Movimento 5 Stelle come funziona noi a qualsiasi candidato chiediamo chiaramente la fidina penale quando abbiamo determinati sospetti o voci o comunque evidenze chiediamo anche di fare una procedura che si chiama 335 per verificare se vi siano delle indagini a loro carico fermo restando che poi ci possono anche essere delle indagini giustamente segrete perché il magistrato spesso può anche fare anzi ha il dovere di fare delle indagini in maniera segreta quando escono delle notizie sulle quali non sempre si può avere la certezza il Movimento 5 Stelle si comporta in maniera intransigente io non ho mai detto di avere la certezza sempre a 100% di che abbiamo di fronte altrimenti lì non esisterebbe il divorzio se fossimo sempre sicuri delle persone che abbiamo di fronte ma la certezza del sistema del 5 Stelle che fa pulizia e in maniera molto chiara e diretta dice questo non fa più parte del Movimento 5 Stelle così secondo me ci si comporta senta Di Battista Berlusconi Berlusconi ha detto che voi dei 5 Stelle in particolare lei usate il linguaggio dell'odio vuole replicare? siccome diciamo è un tema di grandissima attualità in questa campagna elettorale perché è di oggi sono di oggi gli ultimi scontri tra centri sociali che protestavano a Pisa per l'arrivo di Salvini insomma abbiamo domani sono previsti tre cortei a Roma c'è molto allarme su questo fronte poi rispondo anche su questa parte qui rispetto a Berlusconi ma io cosa ho fatto? cioè io sono andato sotto casa sua a leggere un pezzo della sentenza di condanna di Dell'Utri che è in carcere per associazione per concorso esterno in associazione mafiosa Dell'Utri fondatore di Forza Italia il quale lo scrivono magistrati comunque una sentenza in via definitiva fece da intermediario tra Berlusconi e Cosa Nostra cioè Berlusconi finanziò quell'organizzazione criminale che fece saltare in area Falcone e Borsilino poi mi potrà pure querellare Berlusconi amen ma per lui leggere una sentenza dove c'è scritto Nero su Bianco che finanziò Cosa Nostra significa un linguaggio d'odio già l'ho detto tornasse in naftalina e dico ai cittadini di non votare coloro che hanno finanziato Cosa Nostra Berlusconi per me deve tornare in naftalina e dovrebbe essere già lo è stato però dovrebbe uscire dalla scena politica nazionale questo non è odio significa rispettare la legalità sentati Battista ma lei si definirebbe un antifascista? La Costituzione è antifascista e per me qualsiasi forma di totalitarismo è oscena poi per quanto riguarda il contrasto delle forme di violenza xenofobia razzismo io sto dicendo urbi e torbi da cinque anni che si contrastano non con i minuti di raccoglimento boldriniani o con i comunicati stampa ma con delle leggi a sostegno dello Stato Sociale perché il Parlamento della Repubblica negli ultimi 30 anni non si è dedicato a diritti economici e sociali parliamo delle pensioni del lavoro della lotta al precariato dei trasporti pubblici della sanità pubblica in un paese dove milioni di cittadini rinunciano a curarsi per ragioni economiche si vuole contrastare giustamente questi fenomeni? Ecco si implementi allora lo Stato Sociale perché lo Stato Sociale è in crisi poi però tutti devono anche essere un minimo grati al Movimento 5 Stelle perché facciamo manifestazioni di piazza siamo sempre in piazza io domani sono in Sardegna Iglesias e Oliena o sto girando l'Italia in camper con la mia famiglia da non candidato e non c'è mai stato un incidente durante un evento di 5 Stelle per cui tutti quanti anche i detrattori del Movimento dovrebbero esserci grati perché siamo riusciti ad incanalare Lilli in un percorso di partecipazione di democrazia e di bellezza della politica perché concordo la politica per me è bellissima quella rabbia e quell'indignazione anche giustificata e per me giusta del popolo italiano io devo dire sono sempre piuttosto a disagio quando alla domanda lei è antifascista non sento una risposta chiara il Vangelo Gesù nel Vangelo dice il tuo dire certo che no 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 un attimo un attimo un attimo e mi faccio a finire il Vangelo dice con le parole di Gesù il tuo dire sia sì sì no no il resto è del demonio e io credo che alla domanda lei è antifascista uno debba rispondere con estrema chiarezza sì o no dire la costituzione antifascista utilizzare un giro di parole una cosa che mi dispiace in una persona in un politico che ha detto una cosa su cui io sono d'accordo è vero che il Movimento 5 Stelle ha in qualche modo incanalato una parte di rabbia violenta ma la domanda lei è antifascista bisogna dare una risposta precisa non giri di parole allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché Di Battista sei telegrafico telegrafico però sì è chiaro e io sarei stato un grande avversario della dittatura fascista cercavo non di svicolare caro figlio ma di argomentare perché in questo momento Lilli io noto che ci sono fascisti nostalgici con le camicie nere che prendono e dicono viva il duce antifascisti che parlano contro il fascismo e piccano i carabinieri nel frattempo in Sicilia dove sono stato gli agricoltori non coltivano più anzi non raccoglono più i pomodori Pachino perché si vendono i pomodori Pachino del Camero per concentrarmi sulla risoluzione dei problemi non soltanto con gli slogan però è evidente che sono antifascista ciò non toglie che si può rispondere sì sì o no ho risposto allora oggi ho risposto ho risposto va bene quindi rettificando lei antifascista la risposta è sì di nuovo ma scusi caro figlio però mi pare che non volete ascoltare la domanda è molto semplice non è che uno non ha il diritto ad argomentare un ragionamento non ha difficoltà si o no buttatela sul Vangelo e sulle 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 ha dei problemi col Vangelo sulle scritture ha dei problemi col Vangelo va beh lo dica ha dei problemi con l'antifascismo assolutamente ho fatto pure il catechista ma non era ho fatto anche il catechista ma non era davvero fuori la logica del Vangelo di Gesù e delle Sagre Scritture non tratti il Vangelo con questo gesto di sufficienza il messaggio è lasciamo il Vangelo da parte adesso veniamo all'economia perché oggi il tema del lavoro naturalmente è uno dei temi centrali di questa campagna elettorale ma anche quello dell'immigrazione come sapete e oggi di Battista la vostra candidata a 5 Stelle per la regione Lazio Roberta Lombardi promette più turisti e meno migranti questa è la linea di tutto il Movimento 5 Stelle? rispondo subito sul lavoro i contratti precari Lilli non consentono forse di sopravvivere ma non di andare in banca e chiedere un prestito per un mutuo il lavoro non dovrebbe servire soltanto a sopravvivere ma a costruirsi una vita per cui le politiche che sono state fatte in questi anni hanno distrutto il lavoro per rispondere alla sua domanda quello slogan che ha tirato fuori ma non Roberta penso lì quella grafica più turisti meno migranti è scritto sul suo manifesto sono sincero è evidente è una roba uscita su Facebook io non l'avrei utilizzata già l'ho detto ciò nonostante conosco Roberta il programma 5 Stelle è il seguente uno ridurre le cause non è facile chiaramente dall'aumento dei flussi migratori ma non l'ho bombardata io la Libia non sono io che vado in Congo a sfruttare il Coltan e non sono io che vado a esportare e poi come ho sempre detto coloro che hanno diritto devono essere accolti accolti bene e anche suddivisi per quote tra tutti i paesi europei come vuole una mozione che è passata e anche tra tutti i comuni italiani coloro che non hanno diritto devono essere reimpatriati anche tra tutti i comuni italiani è evidente tra i comuni italiani ma tra gli altri paesi europei per quote perché tutti quanti si devono fare carico di questo problema ma siccome oggi allora con voi dovrebbero dirvi sì va bene è evidente ci vuole una cooperazione ma ci vuole la suddivisione tra i paesi europei devo chiudere ma voglio chiudere con una domanda caro figlio perché siccome lei ha deciso di come dire Di Battista di non ricandidarsi nel 2013 uno si è pentito? no no non mi sono pentito a fare per niente io continuo a fare politica quello che stiamo facendo qui è politica certo certo ma insomma non è più in Parlamento e che consiglio darebbe a Di Battista che adesso vorrà fare non so giornalista scrittore io credo che Di Battista continuerà a fare il politico e fa bene perché sta migliorando e questo si vede allora gli darei un consiglio che era un esercizio che facevo fare i miei uditori giudiziari quando facevo il magistrato io lavoravo in procura mi occupavo di criminalità mafiose di corruzione e ogni volta che c'era un caso delicato io incaricavo i miei giovani magistrati quelli che facevano il tirocinio con me di pensare a quel caso come se fossero stati gli avvocati dell'imputato perché volevo far assolvere l'imputato? no perché volevo insegnargli a vedere le cose da un altro punto di vista volevo insegnargli a rafforzare la nostra prospettiva individuando il punto di vista dell'avversario gli consiglio di fare questo farà questo Di Battista? telegrafico io i consigli buoni li accetto sempre telegrafico e dico anche al dottore di non avere pregiudizi rispetto al Movimento 5 Stelle perché il pregiudizio è una forma di prigione del ragionamento però mi pare che caro figlio abbia dato prova stasera di non avere pregiudizi nei vostri confronti d'accordo infatti io lo dico sempre grazie grazie Alessandro Di Battista grazie Gianrico Carofiglio